Come è una giornata speciale? Iniziare a porre le basi per riscrivere una nuova storia di futuro industriale per la nostra regione in un tema su un tema in cui la Basilicata è stata sempre protagonista. Il tema dell'energia, il tema della transizione, il tema della sostenibilità che sono i temi appunto del convegno di oggi sono temi su cui si è sempre basato lo sviluppo industriale, lo sviluppo socio-economico della nostra regione e siamo convinti che su questa partita tutta la nostra regione, tutta la nostra comunità, può svolgere un ruolo determinante e fondamentale. Oggi è testimone di questa giornata la presenza di tre importanti ministeri con il ministro Picchetto Fratin per quanto riguarda il tema ambientale su cui sappiamo benissimo qual è l'impatto che ha sulla nostra regione. Ovviamente tutto il tema del PNRR e quindi il tema dello sviluppo delle comunità locali e quindi delle aree come la nostra legate al processo di sviluppo e quindi di investimenti europei e poi chiaramente un tema di sviluppo industriale quindi che è proprio il tema su cui si basa il lavorare quotidiano delle nostre aziende. E come Confindustria sicuramente anche un grande impatto organizzativo, una grande motivazione, un grande motivo di orgoglio aver raccolto tutti gli associati rispetto a tematiche così importanti. Sì, diciamo che Confindustria ha la forza, l'autorevolezza, la reputazione di Confindustria e del nostro sistema in qualche modo si tocca con mano in giornate come quelle di oggi. Oggi abbiamo qui veramente il centro dell'attenzione appunto di tutti i temi che in queste ore, proprio in queste settimane si stanno delineando a livello nazionale ed europeo e chiaramente la presenza dei ministri, la presenza di questo folto numero di imprenditori e quindi di tutti gli stakeholder della nostra comunità ovviamente testimoniano il ruolo centrale che Confindustria Basilicata e il sistema associativo ha a livello nazionale. Un ultimo aspetto? Ovviamente la presenza di Bonomi chiude appunto questo programma che ovviamente è un programma di rilancio e quindi abbiamo appunto ascoltato le sue parole e abbiamo soprattutto ascoltato qual è la sua direzione, la direzione che lui ha in testa. Un ultimo riferimento alla presenza di due occasioni importanti, l'incontro di tanti presidenti di Confindustria del Mezzogiorno in ottica di coesione e anche l'incontro dei giovani industriali, quindi veramente una giornata ricca di spunti, di stimoli sia verticali che trasversali. Sì appunto questa giornata si completa con i due momenti e con i due tavoli importanti che rappresentano proprio la struttura di Confindustria ovvero tutto il mondo dei giovani imprenditori col presidente nazionale Riccardo Di Stefano che testimonia ancora una volta la sua vicinanza, la sua attenzione verso i nostri territori e verso soprattutto i giovani imprenditori di Basilicata e poi chiaramente la presenza appunto dei vice presidenti nazionali. Quindi oggi possiamo assolutamente dire che la Basilicata e in questo caso Matera diventa al centro dell'attenzione nazionale.